La Nazionale Italiana Under 18 e quella francese si affronteranno all'Aquila l'11 e il 13 novembre. I due incontri si disputeranno allo Stadio Gran Sasso. La prima, quella di giovedì 11 novembre, è in programma a partire dalle ore 12 e 30, mentre la seconda che si giocherà sabato 13 novembre inizierà alle ore 11. L'idea di questo doppio confronto nasce da una storia di solidarietà e ricostruzione, visto che il governo francese offre il suo contributo affinché l'Aquila rinascesse dopo la tragedia del terremoto del 2009. Nella conferenza stampa di presentazione dell'evento tenutesi presso la Sala Auditorium Pier Vincenzo Gioia di Palazzo Silone, hanno partecipato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e l'assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris, il presidente dell'Elene di Abruzzo, Concezio Memmo, il CT della Nazionale Under 18, Daniele Franceschini e il capitano Filippo Missori. Nell'occasione la regione Abruzzo, nella persona dell'assessore Liris, ha consegnato una targa celebrativa all'ex giocatore di Castellisangro, Chievo e Sampdoria. Inoltre, venerdì alle 15.30, le due nazionali faranno vista alla chiesa Santa Maria del Suffraggio, ricostruita anche grazie ai finanziamenti pervenuti dalla Francia. Siamo con Daniele Franceschini, CT della Nazionale Italiana Under 18. Allora, Franceschini, ci sarà questo doppio confronto amichevole con la Francia, una bella iniziativa, no? Una bella iniziativa, soprattutto per il messaggio di solidarietà che tutti vogliono mandare. Quindi noi siamo orgogliosi di essere qui, siamo orgogliosi che può essere un inizio per tutte le attività sportive nazionali e internazionali, nella città dell'Aquila e in generale nella regione Abruzzo. Le partite internazionali sono sempre belle, sono sempre stimolanti, a maggior ragione quando si gioca contro la Francia. Cercheremo di dare tutto in campo, come abbiamo sempre fatto, sperando di rendere orgogliosi le persone che verranno allo stadio, spero numerose. A che punto è la sua nazionale? Allora, siamo in una fase di crescita. Le prime partite sono sempre importanti, ma soprattutto permettono a me di poter valutare meglio i ragazzi, ma soprattutto ai ragazzi di crescere. Perché un conto è giocare le partite nazionali, che sono sempre di livello importanti, come la primavera, al campionato primavera, ma un conto è giocare a livello internazionale, dove i ritmi sono sicuramente superiori e gli permettono di crescere in maniera esponenziale e di fare un bagaglio di esperienza che non ha pari con le partite nazionali. Per quando si tratta di un doppio confronto amichevole, la sua nazionale affronterà un'altra nazionale di pari livello, quindi comunque lo spettacolo sarà più che competitivo. Esatto, assolutamente sì, il livello è altissimo, per cui ci saranno dei giocatori che probabilmente un domani potranno calcare anche i grandi palcoscenici, per cui sicuramente un livello alto, di grande qualità, di grande fisicità da ambo le parti di tutte e due le squadre. Il capitano della nazionale Under-18, Filippo Missori. Allora, Filippo, questo doppio confronto contro la nazionale francese, che doppio confronto ti aspetti? Beh, soprattutto, allora, diciamo un doppio confronto con una squadra forte, come è la prima squadra, perché escono tutti da là, quindi anche il settore giovanile è forte, grande qualità e quantità, ma noi cerchiamo di dare ogni volta tutto il nostro contributo di squadra, dove non arriviamo con la testa, arriviamo col cuore, dove non arriviamo con i piedi, arriviamo col cuore, ci mettiamo sempre grande passione e giovedì sarà una grandissima giornata, perché vi faremo divertire, perché è quello il nostro scopo prima di tutto e poi ovviamente cercheremo di vincere, che anche quello è soprattutto. Che gruppo è la nazionale Under-18, Filippo? Ma allora, noi ci conosciamo da tanto, diciamo che il gruppo è sempre stato lo stesso, quindi è come se siamo una seconda famiglia, per me. Siamo amici, pure se il weekend giochiamo contro, quando ci ritroviamo qua, siamo sempre insieme, ridiamo, scherziamo, quindi non c'è nessun conflitto, siamo una seconda famiglia. A quando in Serie A, Filippo? Beh, poco tempo fa è arrivata la prima convocazione, però tempo al tempo e io lavoro sempre testa bassa e quando arriverà il momento mi farò trovare pronto senza problemi.